La separazione tra Albano e Loredana Lecciso Sembra non finire la sopopera che protagonisti Albano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power, che non smettono di appassionare il pubblico italiano. Come ben sappiamo, è fresca la separazione tra Loredana Lecciso e Albano Carrisi. Non sono molto conosciute le ragioni di questo addio. Albano ha chiarito più volte che il motivo però non è stata la sua ex moglie Romina Power. Nonostante incomprensioni iniziali, sappiamo che i due sono però rimasti in buoni rapporti, specialmente per il bene dei loro figli. Dalla relazione sono nati Jasmine Carrisi di 17 anni e Albano Carrisi Junior, di 16. I due però inizialmente, freschi di separazione, se ne sono dette un po' di ogni. Albano infatti si arrabbiò molto con la Lecciso e i giornalisti, accusandoli di fare audience sulla sua vita privata. Loredana ha un carattere difficile. Con le sue scelte non ha mai reso facile la vita di coppia, dichiarò telefonicamente durante il programma Storie Italiane. Anche Loredana Lecciso non rimase a guardare, e a sua volta chiamò anche lei la trasmissione intervenendo con toni più pacifici dell'ex compagno, buongiorno, intervengo solo per salvaguardare il bene dei miei figli, voglio bene ad Albano e dico aiutiamoci. Dopo un periodo di tregua apparente però, le cose sembrano rimettersi male. La swap è ripresa infatti qualche giorno fa, dopo un post pubblicato da Loredana Lecciso sul suo profilo Instagram. Loredana Lecciso infatti, nelle scorse ore, ha pubblicato un post su Instagram pieno di dolcezza. E, una foto che ritrae Albano Carrisi e la loro primogenita, Jasmine. Ad accompagnare il post, una serie di hashtag, tra i quali cancelletto love e tre cuoricini. I malpensanti hanno subito inteso questa descrizione sotto la foto come un gesto di amore nei confronti dell'ex compagno Albano, che in realtà sembra esserci riavvicinato molto a Romina Power. Pare che questo scatto abbia anche scatenato un po' di gelosia nei confronti della Power. Loredana Lecciso e Albano Carrisi sono tornati insieme? E, questo il gossip che si sta rapidamente diffondendo. La showgirl Leccise e l'artista di Cellino San Marco, suo ex compagno e padre dei loro due figli, Jasmine e Bido, sono stati paparazzati dai fan all'aeroporto in compagnia di alcuni amici, dove saranno diretti Albano e Loredana. Non si hanno notizie certe se i due abbiano preso l'aereo dalla Puglia per recarsi insieme da qualche parte o se erano in procinto di tornare a casa dopo un viaggio. I fan si sono scatenati sotto lo scatto ipotizzando addirittura che la ex coppia abbia deciso di tenere nascosto un ritorno di fiamma. In realtà la Lecciso, aveva raccontato a Velvet che all'orizzonte non vi è alcun batticuore, nemmeno con il suo ex. La showgirl, ex compagna di Albano, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sulla fine della storia d'amore con il cantante pugliese. Al centro della discussione ha anche un misterioso messaggio che Romina Carrisi, figlia di Albano e Romina Power, avrebbe lasciato sui social. Comunque è strana la vita. Fai tutto per essere corretta, onesta, cortese e vieni calpestata. E poi ci sono le donnette da quattro soldi che ottengono tutto solo perché si piazzano e sbraitano. Come fanno a non sentirsi cheap? Troppo intossicate dal loro ego, forse. Che pena e che rottura di co. C'è sempre il positivo in una situazione negativa però. Queste le parole al veleno che Romina Junior ha scritto sui social.